Adesso sono nel carcere di Halle. Mi sono fatto arrestare l'altra sera al lato di un'autostrada in Germania. Ho un po' paura a tornare. Non sapevo e mai avrei immaginato che tutto questo sarebbe diventato così famoso in Italia e questo mi fa tanta paura. Ho generato tanto odio e rabbia e ho peggiorato il mondo in qualche modo. Mi merito tutto questo dopo quello che ho fatto. Vivrò la mia intera vita in carcere adesso. La solitudine, la tristezza prevarranno sulle mie giornate. Vedrò perdere i capelli all'interno del carcere e anche le energie e le forze della gioventù, poi dell'età adulta, fino a invecchiare piano piano. Non potrò più finire di laurearmi, conoscere persone, avere una famiglia. E in tutto questo, soprattutto, ho perso la persona più importante della mia vita, la persona che è tutto per me e cui da due anni penso in interrottamento ogni giorno. Io non sono cattivo, lo giuro. Non esiste perdono o qualcosa del genere per questo e io non lo voglio, non lo merito. Ho rovinato la vita a tante persone, troppe, senza averci pensato prima. Ogni giorno e ogni notte spero che tutto questo non influenzi la vostra vita in peggio. Capirei e accetterei se dora in poi voi vogliate dimenticarmi e rinnegarmi come figlio. Io stesso non so se ho ancora il coraggio di farmi vedere da voi o di guardarvi in faccia. Penso che probabilmente sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me.